Non sono specchiato. Ok, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questa live pomeridiana e preserale. Se ci vedete bene, se ci sentite bene, se non ci sentite bene, ditecelo mi raccomando perché a noi interessa che voi capiate cosa stiamo dicendo, soprattutto non quello che dico io ma quello che dicono i due ospiti di oggi, perché parliamo di un gioco che sicuramente conoscerete, è impossibile che non lo conoscete, dai su. Quindi io lascio subito e immediatamente la parola a loro e poi se avete delle domande scrivetele nei commenti e saranno felicissimi di rispondervi. Chi vuole parlare, insomma, fate voi. Da cosa possiamo cominciare? Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Cosa possiamo dire, Dario? Morde in Italia cos'è e chi siamo? Diamo una spolverata su cosa siamo noi, cos'è la community di Morde in Italia, direi. Comincia pure tu, Daniele, poi... Allora, possiamo dire che Morde in Italia nasce come pagina Facebook. Pagina Facebook che raccoglie, che è nata con l'intento di raccogliere gli appassionati di questo vecchio gioco. Questa era la mission della pagina, è nata qualche anno presso, di preciso non ricordo se più di quattro anni fa, quattro o cinque anni fa è stata aperta e si sono avvicendati anche altri amministratori, oltre a noi, prima di noi, a cui dobbiamo tanto. Nasce come pagina per raccogliere appassionati, per condividere dei progetti di pittura, per condividere le foto delle bande, qualche domanda, racconti, esperienze. E poi, pian piano, sono cominciato ad arrivare dalla gente iscritta, quando avevamo raggiunto circa il traquarto del migliaio di iscritti, non tantissimi, 1200, ma non si potrebbe fare un torneo, fare delle cose, e da lì è cominciato tutto, da una richiesta della comunità, ed è lì, tra l'altro che io mi sono unito agli admini, io ero iscritto semplicemente come un'obbista, che ci sarebbe per dare una mano a gestire la pagina. Gestire la pagina poi è diventato, nel corso del tempo, anche cominciare a organizzare qualche evento, il primo è stato il Milano World Games, a novembre dell'anno scorso, 2022, 2021, scusate, prima esperienza all'interno, poi coordinati al bivac, e così via, poi è diventato il Modena Play del 2022, esperienza meravigliosa, e in contemporanea poi, ovviamente, alla richiesta di eventi, c'è stato, alcuni sono stati eventi online, concorso di pittura, e quindi manda la foto della tua banda ripinta, vinci la pacca sulla spalla, prima, poi con il contatto con stampatori, produttori, artigiani e così via, abbiamo potuto cominciare a mettere in palio qualche piccolo premio simbolico, più che altro, a volte una bottiglia di birra, a volte, infatti, ringraziamo, prima Fabio che ha scritto, è uno dei nostri sponsor, a volte è un piccolo portaoggetti, o volanza dadi di Morboclava, ad esempio, sempre, uno degli altri che collaborano, fino ad arrivare alla campagna nazionale che è in corso, quindi ne abbiamo prodotto, gli admin e tanti altri collaboratori, hanno prodotto una serie di scenari, poi mandati ai vari gruppi, e è diventato tutto questo, fino a qua arrivare addirittura a fare le dirette a YouTube o essere intervistato. Ecco, tutto qua. Certo, più o meno i set in generale. Sì, vabbè, allora, magari proseguo io, diciamo che i nostri progetti sono nati, prima appunto con la community, in cui dobbiamo ringraziare, secondo me, in primis uno dei nostri admin, cioè Massimo Di Perna, che è sicuramente la persona con più, diciamo, voglia di spingere a questa community in assoluto. Io, ad esempio, sono stato recuperato da lui, io da tempo con Green Forge faccio miniature, sono appassionato di Mordheim e del genere, e da lui sono stato, appunto, recuperato, anche per vicinanza, diciamo, per conoscenza, e abbiamo cominciato, appunto, a collaborare. Io ho fatto diversi delle miniature che hanno fatto da sponsor, o parte di progetti del gruppo di Mordheim Italia, e poi abbiamo cominciato con, appunto, il discorso pittura, cioè abbiamo fatto i piccoli contest, i piccoli contest free, per cercare di dare movimento alla community, perché ovviamente la community deve essere viva, e quindi ci sono dei progetti che invoglino le persone a creare. Ad esempio, la community internazionale, che ovviamente è molto più grossa di nostra, per quanto quella italiana sia una delle più grosse in assoluto, non, tra virgolette, non ne ha bisogno, perché c'è tantissimo movimento, cioè ogni giorno ci sono centinaia di posti, di gente che modella, eccetera. Invece abbiamo dovuto dargli un minimo di spunto. È stato abbastanza facile, perché comunque Mordheim, nonostante sia stato, diciamo, abbandonato, scusatemi il termine, un po' brutto, dalla casa madre, è un gioco vivo. Cioè, molta gente lo segue, molta gente crea le sue personali regole, le sue versioni sono mille, noi cerchiamo su di te, troveremo mille versioni del gioco alternative, chi più, chi meglio, noi siamo più importati verso il gioco originale, per un discorso semplicemente di ci piace mantenere quello che è stato fatto dalla casa. Uno, ovviamente, dei più grandi supporti, sia della nostra, come internazionale, che della nostra, poi è Thomas Pirenen, che è uno degli scrittori originali, con cui siamo contentissimi di aver collaborato diverse volte, in un ultimo il modello che abbiamo fatto in Nominatus per la campagna di Mordheim Italia, per l'ultima campagna nazionale, e siamo, diciamo, arrivati all'apice, appunto, con i tornei, con l'arrivo, appunto, anche di Daniele e di altri membri, io, tra virgolette, come admin sono anche io uno dei più freschi, anche se stavo già dietro come sponsor, come aiuto, ma non ero un admin a tutti gli effetti, che sono poi l'ultimo anno, con gli eventi, Modena Play, eccetera, quello, sì, mi ricongiungo adesso a quello che ha detto fondamentalmente Daniele. Sì, sì, sì. Insomma, sarà anche un ospite che sarà presente anche a Modena, se non sbaglio. Esatto, per tutti quelli che vorranno incontrarlo, farsi firmare i regolamenti, o prendere la miniatura che abbiamo fatto insieme a lui, e farsi magari firmare l'artwork, lui sarà presente, sarà presente solo per la fiera, un piccolo quantitativo di miniature inominatus, appunto da, se volete farvi la foto, farvi firmare, eccetera, sarà tutto molto figo, come suol dire. Sì, sì, assolutamente sì, io ci sarò solo domenica, ma speriamo che rimanga qualcosa per domenica, speriamo, dai. Vabbè, conosco qualcuno, hai dovuto raggiungere, poterlo da parte, credo. Va bene, grazie, allora, grazie. Allora, io non lo so, voi fate, ovviamente, se avete degli spunti, volete parlare liberamente, fatelo tranquillamente, non c'è alcun tipo di problema, ma io parlerei un po' dell'ambientazione, ci spiegherei un po', insomma, molto brevemente, di che cosa parla? Vuoi cominciare tu? Vado io? Vado io, e poi, come diceva quello, mi corrigerai, ma no. Allora, Morden è un gioco figlio di Warhammer, quindi il mondo fantastico è quello di Warhammer, il vecchio mondo, quello che è una rappresentazione, diciamo così, sotto steroidi dell'Europa nascimentale, seicentesca, fantasy, generica, di Games Workshop, Games Workshop ha saccheggiato tutta la loro possibile per crearlo, è ambientato molto prima del presente, quindi del presente di Warhammer, di Warhammer Fantasy, prima che venisse spazio a Puglietà di Times, è ambientato nell'anno 1999 dell'età di Sigma, in una città che nel presente non esiste più. Perché nel presente non esiste più? Perché all'alba dell'anno 2000 dell'età di Sigma, una cometa l'ha colpita, l'ha colpita, spianandola al suolo lasciando un gigantesco cratere. Perché l'ha colpita? Perché era la città più ricca, più debociata e più peccaminosa di tutto l'impero, quanto dice la leggenda. Dal cratere fumante hanno cominciato ad alzarsi i vapori e i primi sopravvissuti che hanno provato a rientrare, a recuperare qualche oggetto e qualche piccola cosa sono tratti con queste pietre luminescenti. Questa malapietra o buona pietra secondo alcuni o secondo gli scaven o altra pietra. Questa malapietra, io la chiamo per esempio malapietra, è diventata poi la merce più ricercata ha delle proprietà simili a quelle della pietra filosofale e della storia della mitologia medievale. Tramuta il piombo in oro, sana le malattie, fa vedere i ciechi e camminare di storpi. E allora... Ti fa crescere un tazzo braccio. Quelli sono poi effetti collaterali sul lungo periodo. È un tazzo braccio. Sì, certo. Poi suonare il violino e soffiarti il naso con tempo la santa. O, beh, stavo pensando ad un'altra cosa. Suonare il pianoforte e magari qualcosa da lì. Questa malapietra è richiestissima da chiunque nell'impero e anche fuori dall'impero. E quindi bande di Desperados si avventurano tra rovine più o meno fumanti giocandosi la pelle per pochi frammenti di malapietra pronti a tradirsi l'uno con l'altro e via così. Questa è l'ambientazione. Originariamente hanno previste soltanto poche bande perché anche per ragioni di semplicità quindi gli umani in vari flavor cacciatori di streghe le sorelle maguerriere chiamate anche sorelle martelle o una banda tutta la femminile già 20 anni fa e più e poi in classi scaven dalle profondità del suolo non morti sotto forma di conti vampiro un po' un po' animati non molto potenti per la verità rappresenterebbero i servi più infimi e poi tra gli ultimi ma più importanti nell'ambientazione i posseduti che è la versione di Morden del caos che in teoria sembra un po' il padrone di casa perché all'interno del cratere lasciato la conetta dovrebbe risiedere il signore delle bomba il capo di tutti i posseduti questo è in due parole quello quello che è Morden e i giocatori si mettono alla guida di una di queste bande di Desperados per entrare a caccia di gloria ricchezza mutazioni morte morte male morte brutta esatto tutti fai meglio beh cosa possiamo aggiungere possiamo aggiungere parlando invece del gioco il gioco è un gioco appunto che ha dato un po' vita poi a questo filone di fantasy green dark nel mondo della miniatura nasce come copia barra discendente della sua controparte Shify ovvero Necromunda di fatti la prima edizione di Mordheim è fondamentalmente un mix fra le regole di quinta e sesta edizione di Warhammer Fantasy unite al sistema di gioco allo skirmish alla campagna al sistema di avanzamento derivato di Necromunda di fatti la primissima edizione di Necromunda se noi la sovrappuniamo a Mordheim fondamentalmente è quasi lo stesso gioco il concetto di fondo è lo stesso quindi è stata una trasposizione del sistema già tra virgolette rodato e trasportato nella sua versione fantasy con un'ambientazione completamente comunque diversa perché in Necromunda noi abbiamo un mondo quasi cyberpunk nella nuova moderna molto cyberpunk mentre in Mordheim abbiamo quello che io definirei una sorta di dopobomba noi abbiamo questo post-apocalittico fondamentalmente e quindi ha creato questo sorta di punto di poca post-apocalittico fantasy dove appunto vediamo molti cliché del post-apocalittico la muta pietra è un po' paragonabile come ha detto Daniele sia alla pietra filosofale ma anche all'uranio alla radiazione infatti abbiamo le mutazioni incontrollate la gente che muore anche solo toccando o che gli spunta il comodissimo terzo braccio e via dicendo ha generato poi tutta una serie di derivazioni Mordheim che si sono diramate in tanti altri giochi in tante versioni homemade abbiamo avuto anche dei diciamo quelli che potremmo chiamarli dei successori a livello della casa madre cioè della Rinesworshaw che potrebbero essere Warcry che comunque rappresenta un po' l'idea di Mordheim anche se in una struttura di gioco un po' diversa è comunque più semplice Warcry è più un entry level rispetto a Mordheim oppure Cursed City che però invece è un gioco diciamo in scatola un gioco a sé stante che però è molto più nell'ottica nell'ambientazione di Mordheim fondamentalmente al giorno d'oggi Mordheim appunto si gioca in mille versioni diverse come dicevo prima noi preferiamo ottenere la strada delle regole originali abbiamo il vantaggio di essere appunto supportati da alcuni cioè dallo scritto da uno degli scrittori principali del gioco e quindi siamo contenti di mantenere la base del gioco originale poi ognuno è libero cioè tra virgolette il bello della community così ampia e variegata e ognuno è libero poi di scegliere la variante che gli piace di più esatto esatto no è molto bella questa varietà infatti ne stavamo parlando anche prima di entrare in live proprio di questo fattore e mi riaggancio a una una frase che hai detto Mario che è per una domanda cioè tu consiglieresti questo gioco a una persona che non ha mai giocato questo allora non è non è un gioco super immediato perché è una concezione leggermente vecchia ma sì lo consiglio tranquillamente ci vuole un attimo a entrare nelle meccaniche ma poi è abbastanza è abbastanza facile come gioco beh ovvio che se uno magari arriva da un gioco molto moderno potrebbe fare un po' più di pratica solo per un discorso che è un gioco comunque di vent'anni fa e quindi ha un'ottica leggermente diversa dei giochi moderni ma è solo quello cioè tolta un po' diciamo della ruggine data dalla diversità poi è un gioco tutto sommato facile da prendere senza questi problemi cioè se doveste riassumere un po' il sistema di gioco ma proprio super riassunto perché qui ovviamente non possiamo fare una dimostrazione online di come si fa come come lo lo descrivereste come lo descrivo allora beh innanzitutto è uno skirmish a campagna quindi mirato non al diciamo veramente al torneo o alla competizione ma alla campagna quindi alla crescita della della banda quindi è un gioco che va giocato consecutivamente con lo stesso gruppo e ovviamente scusa mi sono impappinato che il cane ha fatto dei disastri ma ok e dicevo appunto è un gioco a campagna è un gioco con limitato numero di modelli una banda media si tratta una decina di modelli circa fino a arrivare a un massimale di 15 16 modelli a una campagna inoltrata normalmente poi ci sono ovviamente estremi di vario tipo è un gioco di con modelli diciamo non non estremamente superioristici è un gioco in cui qualunque modello potrebbe vivere o morire come un semplice tiro di dado da quel punto di vista diciamo abbastanza realistico cioè si muore e si sopravvive molto casualmente non è un gioco per giocatori estremamente competitivi perché non è un gioco pensato per appunto la competizione e infatti il bilanciamento è molto secondario all'interno del gioco è un gioco pensato fondamentalmente per divertirsi per avere il proprio gruppo di gioco senza appunto mirare a chi diventa più forte chi è il più potente e così via dal punto di vista delle regole è un po' dura spiegarli in pochi secondi senza avere il miniatore sul tavolo è un gioco basato sul dado da 6 movimento in pollici è un gioco urbano quindi richiede un tavolo di 120 per 120 poi dipende in realtà alcuni community giocano con il tavolo da 100% per questioni di conversione diciamo errati del primo manuale il tavolo urbano richiede che ci siano più livelli quindi è un gioco molto complesso dal punto di vista degli scenici perché richiede spazi stretti molta verticalità questo per permettere che il gioco non diventi semplicemente una dominazione delle armi da tiro perché ci sia molto movimento che sia molto variegato nel gioco si potrebbe giocare anche su un tavolo normalissimo come un tavolo però perderebbe molta dell'attrattiva del gioco il gioco è pensato per essere giocato in questo modo per giocare nei vicoli nei spazi stretti non so se a Daniele viene in mente altro però direi che è e poi c'è la piccola componente di GDR di esperienza di personalizzazione perché una parte dopo l'altra i modelli possono venire feriti possono acquisire attività cambiare l'equipaggiamento si possono rimpiazzare le perdite o magari congedare membri della banda che risultano sfortunati che risultano feriti invalidi e così via si possono assumere specialisti ogni partita in palio certamente la malapietra ma si possono trovare bottini anche in monete d'oro poi possono essere spese e io posso decidere di equipaggiare i miei membri non più con un banale arco ma con delle malestre ad esempio oppure c'è quel nell'ultima partita io ho avuto dei grossi problemi a rapportarmi con il mago avversario andiamo a vedere se c'è un mago disponibile per l'arruolamento e ingaggiare magari un mercenario c'è una componente diciamo che un buon 20% di simi GDR con l'avanzamento la progressione la crescita della banda è fondamentale guarda che può essere giocato anche come partita singola non è un problema ma ce lo si gode di più in una catena di partite nella mia esperienza un numero limitato di partite non tantissime 10 partite 12 forse diventa un po' troppo però se ci si tiene su 5 6 partite si riesce ad avere una buona una crescita della banda perché sul lungo poi c'è anche un po' di frustrazione personaggi molto potenti magari muoiono in uno schiocco di ditta precipitando dal tetto ad esempio eh ad esempio il vampiro super fortissimo esperto che ha mille capacità competenze e una carissera piena di guaddo d'oro mette un piede in fallo si spacca al collo precipitando dal tetto può capitare benissimo ogni riferimento è puramente casuale perché è a Novegro io l'ho provato per la prima volta a Novegro e non so se appunto erano ragazzi però l'ho trovato molto semplice molto non semplice perché è brutto dire che un gioco è semplice sembra che ah vabbè è un gioco da poco ma in realtà era facile da capire proprio perché me l'hanno spiegato nel contesto non mi hanno detto solo questa è una miniatura devi spostarlo di tot pollici colpisci al 4 più gira di qui gira di là eccetera no mi hanno spiegato tutto il lato del background che mi ha fatto proprio mi ha inserito all'interno della partita quindi questo è stato poi il motivo per cui adesso sto facendo la mia la mia banda di scaven però voglio recuperare dei commenti che mi sono lasciati indietro ce ne sono tantissimi intanto saluto tutte le persone che si stanno collegando da Danny Andrew Massimo Fabio Alessio aspetta Massimo Massimo Di Perna Lorenzo Alessandro adesso tutti tutti però ecco aspetta che recupero i vari commenti voi li vedete? sì 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 sullo schermo principale sì sì allora Andrew ci dice Mordheim è un gran gioco proprio perché è stato abbandonato dalla GV uno dei suoi punti di forza è il regolamento che non è mutato nel tempo un po' come Battletech cosa pensate Battletech Battletech che è il cugino che pronuncia ma allora sì e no se posso partire io sì e no allora GV viene spesso accusata di essere una sorta di mastermind perfido demoniaco è cattivissimo che gode frustrare i giocatori a prelevare i loro soldi dalle tasche che può anche essere un'azienda che deve far profitto certo che vuole i soldi c'è da dire che però Mordheim è stato abbandonato e essendo abbandonato ad esempio si tira dietro un sacco di bacchi nelle regole lo dicevamo anche Dario Mordheim non è fatto per il gioco competitivo perché regolamento è stato steso in maniera possiamo anche dirlo non vorrei offendere nessuno ma in maniera un po' approssimativa ma va bene cioè per carità il suo obiettivo era quello di avere un gioco rapido veloce per farsi due risate con gli amici la mancanza di un supporto stabile porta alla mancata correzione di bacchi che sono sfuggiti alla fase di revisione del testo ma questo è un problema il fatto che non si è più supportato rende il dato positivo possiamo dire rende il gioco più longevo non c'è l'ansia di dover comprare il manuale o regolamento edizione per edizione tipo la io ho cominciato a giocare con la seconda di guardare 40 mila possiamo la decima io ho 9 manuali di cui sono belli però fondamentalmente mi si è verde sul volto per moderno questo non è vero il fatto che non è supportato fa anche in modo che basti poco per cominciare cioè il manuale è una mancata di miniature non serve inseguire quella che è l'armata o la banda più forte di questa pubblicazione però ecco la mancanza di supporto si fa sentire in certi termini poi per carità la mancanza di supporto ha anche consentito al mondo della modellazione della stampa 3D di esplodere con una certa di miniature di modelli meravigliosamente varia e GW queste cose non le fa cioè non le fa più e i modelli che fa GW adesso parzialmente sono compatibili ma parzialmente no questa è perlomeno la mia opinione però lascio tranquillamente la parola a Dario che potrebbe sapere ma io sono pieno della stessa della stessa opinione ma alla fine in realtà il supporto della ditta le nuove versioni comunque danno benzina al gioco non sono mai male è ovvio uno può piacere di più un'edizione uno può piacere quella precedente però fondamentalmente avere una ditta dietro che spinge il gioco vuol dire avere dei negozi che lo spingono quindi avere una community più forte in cui giocarlo alla fine se guardiamo l'Italia la maggior parte dei giochi giocati sono quelli della Ring Sword Shop perché perché tu vai in un negozio e trovi un giocatore è facile giocare con qualcuno quindi se la GV riprendesse in mano il gioco tu avresti più persone con cui giocare che non è mai un male ovvio farà magari un nuovo regolamento ti piacerà non ti piacerà lì diciamo che sono gusti personali giustamente però non si può dire prima di aver visto il nuovo regolamento se ci piace o meno è un'operazione che è già stata fatta da GV vedi con Blood Bowl Blood Bowl ha avuto più o meno il stesso percorso o meglio ha fatto un passo in più di quello che è Morden la community di Blood Bowl è sempre esistita c'è sempre auto-organizzata in tornei eventi e così di tutto GV è uscita con Blood Bowl 2.0 o chiamiamolo come per esempio Blood Bowl ventunesimo secolo e si è integrata piuttosto bene comunque la community di Blood Bowl con il gioco diciamo ufficiale e tutto quanto quindi fondamentalmente io non penso che sia un male se la GV magari nel progetto Old World avrà prenderà come spero lo spunto di rispingere il gioco sì 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 di sicuro fornirà miniature belle quello qui c'è Massimo che ci chiede lo consigliere se ai giocatori di GDR sì ci può stare diciamo che potrebbe essere forse uno dei giochi di miniature più adatti a chi arriva dal GDR proprio per il discorso della personalizzazione e della crescita sì ma anche sono perfettamente d'accordo poi c'è Danny che ci fa una domandona ma come mai visto il successo GV ha smesso di supportarlo poco dopo le politiche GV sono molto misteriose però fondamentalmente negli anni 2000 la GV ha fatto un diverso saliscendi di politica di supporto di quelli che una volta si chiamavano giochi specialist o giochi fanatic sono dei team a parte che sviluppano questi giochi adesso sono stati tendenzialmente inglobati nel team forgered e quindi sono un diverso sfruttamento delle risorse in base a chi gestisce ovviamente l'azienda chi è il capo questi hanno più o meno libertà e risorse di conseguenza c'è stato il periodo diciamo che potremmo chiamare scusa fare una parola ma di merda della GV che è quello in cui è stato praticamente abolito tutto quanto era diciamo nel vecchio stile per questioni tendenzialmente di budget White Dwarf era praticamente sparito il vecchio mondo di Warhammer è stato distrutto e così via e in quel momento la maggior parte dei giochi come Mordheim sono spariti anche se Mordheim era già sparito da prima già prima molti di questi giochi erano stati abbandonati è un discorso semplicemente di politica aziendale a seconda di chi è di chi ha i vertici decide dove spostare cosa gli rende di più è ovvio che comunque i titoli di punta WM40.000 Age of Sigmar in questo caso alla fine sono quelli che fanno i soldi veri della Games Workshop quindi comunque per loro sono decisioni marginali se mi si consente un'integrazione io aggiungerei un'altra cosa Mordheim è stato lanciato nel 99 e nel 2001 se non ricordo male GV ha cominciato la produzione la messa in commercio dei giochi del Signore degli Anelli quindi quelli sulla terra di mezzo avendo preso i diritti del film e immagino anche spendendoci qualche soldi di ogni dito e si parecchi tanti per cui secondo me forse c'è tanti motivi per cui GV ho abbandonato uno è quello è questo qua nel senso che la prima versione se faccio la memoria sicuramente c'era qualcuno dei comunicatori che mi massacrerà perché il bario però il target della prima versione di Lord of the Rings era uno scendici perché si giocava con più modelli di quelli Mordheim però attorno a 20 20-50 non tantissimo di più quindi la nicchia di giocatori poteva essere sovrapposta non solo in questo stesso periodo era stato lanciato anche poco dopo anche Inquisitor anche quella stessa nicchia di giocatori per 40.000 quello e sempre nello stesso periodo anche Warmaster tre lanci di tre giochi tutti insieme tre lanci di tre giochi tutti e tre che dal punto di vista dei flussi di cassa e del finanziario possono generare soltanto un ritorno economico ridotto perché perché lo diceva uno dei commenti che penso fosse Fabio si gioca con pochi modelli quindi io compro il manuale compro una manciata di modelli delle bande che mi piacciono quindi le sei di base le sei armate di base di Warmaster i dieci modelli di inquisto erano comunque un numero limitato e io sono già a posto così non mi serve di fare altri acquisti e dal punto di vista del lobbista e questa è una figata perché io con i miei amici ho sei bande possiamo già giocare in sei la spesa è limitata e questo ci darà molte ore di divertimento soprattutto chi produce chi vende non mi consente di allargare il flusso di cassa come io dire di aumentare il flusso di cassa e di vendere molte cose con una scatola con un box di scaven facciamo parlare prima con te fuori dalla direte io risco a fare due bande complete di scaven a un costo molto molto basso con una scatola della famosissima milizia umana dell'impero si riuscivano a fare due bande e mezza di nazionali umani complete e non serviva altro è una miniatura in metallo per il leader nel contesto del profitto del venditore questo in effetti è comprensibile che non sia esaltante quindi una delle dismissioni può essere anche questa le esigenze poi di chi ci gioca saranno ovviamente diverse comunque essendo un gioco di nicchia tra virgolette nell'ottica GV diciamo che ha avuto le risorse paragonate a quello che gli faceva incassare fondamentalmente il discorso è quello adesso bisogna addentrarsi nell'argomento miniature elementi scenici ma prima di farlo c'è l'ultima domanda di Alessandro che è che ne pensate di Desolation supplemento made in Italy allora ammetto che appunto io sono un grande fan del sistema base e quindi non l'ho mai giocato gli ho usato solo un'occhiata e quindi non mi non mi posso diciamo sbilanciare non so se Daniele è più ma allora non mi sbilancio neanch'io perché prima che lo citasse Alessandro purtroppo io nero quasi totalmente all'oscuro perché io mi sono avvicinato a Morde in Tempori di Silis io mi sono fermato all'impero in fiamme Desolation mi dispiace me ha colpa però non lo conosco scusate ok fattico essere sul pezzo su tutto conosco Brian che fa tutti i riferimenti per il materiale conosco il materiale prodotto in autonomia o in passata autonomia dal gruppo di Firenze di Andrea Seguino e Co ma Desolation mi giunge io gli ho dato una breve occhiata ma anche io non mi sbilancio perché appunto non avendolo mai provato c'è tantissimo materiale fan made alcuni anche molto belli non ho né tempo né testa di provarli tutti quanti come ha lui citato c'è molti in Italia usano il regolamento che viene chiamato Morde in Firenze per esempio che è molto interessante mette un sacco di cose però si diventano troppi giochi è difficile se uno ha un gruppo che gioca una variante giocare le altre e quindi io gioco col mio gruppo l'originale e rimango sull'originale diciamo tutto lì sì 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 ok allora io direi di parlare di miniature parlare di miniature di scenari dove si trovano come si dipingono come tutto tutto allora Dario tu o parto io allora miniature beh ovviamente le miniature sono l'anima del gioco le miniature ovviamente di base sono quelle della Games Workshop perché lei ha creato il gioco la maggior parte non sono più reperibili almeno nel mercato diciamo del nuovo ma si possono recuperare molte nel mercato dell'usato ci sono poi diciamo le ditte alternative tra cui io che con la mia Greenforge produco quasi esclusivamente prodotti relativi a Mordheim in quanto mi piace ci sono altri marchi anche italiani che producono prodotti pensati appositamente per Mordheim ci sono tante ditte che fanno file per la stampa 3D alcune compatibili altri paesemente pensati per il gioco di Mordheim quindi trovare la miniatura in sé non è difficile la stessa GV ha nel suo range molti prodotti che sono adattabili non ha più quelli che erano appunto le vecchie libere compagnie di cui potete trovare tanti però sostituti fra cui appunto eccolo questo è un originale non ha più i vecchi modelli in metallo però ad esempio se uno vuole fare una banda di modelli umani ha comunque fra quelle che adesso in Age of Sig mi pare si chiamano Free Cities diversi modelli che erano poi i vecchi modelli dell'impero del vecchio Warhammer Fantasy che sono perfettamente compatibili se invece volete più libertà potete andare verso modelli appunto delle case alternative appunto come la mia come il nostro altro sponsor di Resilab e così via quindi si trovano facilmente nel senso è molto facile sul nostro gruppo Facebook abbiamo fatto un elenco con tutti i produttori che noi consigliamo almeno quelli che conosciamo e che siamo sicuri che il prodotto è adatto e siamo sempre disponibili se qualcuno ha bisogno di opinioni o informazioni a rispondere anche sul gruppo sia gli utenti che gli admin qualunque se uno pensa che un modello sia in dubbio basta chiederlo ma comunque è un gioco molto libero quindi qualunque miniatura fantasy senza poi è gusto personale io ritengo che se uno mi mette un indiano fantasy magari è un po' fuori luogo però uno può piacere ed è libero un po' di fare quello che vuole sì 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 molto gusto personale insomma beh come dice sotto Massimo ad esempio i modelli che hanno fatto sullo stile di Corset City quindi cacciatori di streghe alcuni modelli di Shadowspire sono effettivamente molto adatti come dicevamo Corset City è uno dei tra virgolette successori almeno nello diciamo nello spirito di Mordi certo dimmi dimmi tu se hai qualcosa da aggiungere Daniele su modelli su ma manovare poi c'è chi modelli c'è chi va a caccia per mercati dell'usato assolutamente su ebay anche su facebook stesso ed è assolutamente valido magari rischia di spenderci qualcosa di più per persone da collezione normale e a cui non sono nemmeno troppo belli perché la scultura mi sente molto nel periodo erano tempi di scultura ma l'altra metà del gioco sono gli edifici non si può pensare a morire senza gli edifici sono una parte fondamentale su una parte su cui molti modelli si spendono molte più ore che non sui modelli stessi per gli edifici le varianti sono fondamentalmente tre possiamo dire l'autocostruzione completa e quindi si parte da come fanno i modellisti più classici anche dello storico da balsa, polistirolo, gesso e compagnia e si costruiscono le case e noi abbiamo sul sito di Morden pronto un manualetto che si chiama guida del costruttore con molti consigli da questo punto di vista degli edifici auto costruiti e uno può farlo per ragioni di budget perché gli piace anche perché può farsi quello che ne ha voglia letteralmente a mano è forse un po' più macchinoso ma ce la si fa da molte soddisfazioni c'è la possibilità di acquistare edifici già fatti per dai fornitori come ad esempio P-Work Games che è un nostro sponsor che fa gli edifici di MDF tagliato laser che si assemblano in pochi minuti la pittura è un po' più macchinosa perché comunque sono modelli di grosse dimensioni ma si può fare anche rapidamente a pennello o ad aerografo e la terza via è la stampa 3D in autonomia quindi si contatta, si recupera un STL, anche qua ci sono molte aziende, molti studi che vengono gli STL pronti a stampare e se poi c'è una stampante a disposizione propria o di un amico o si sfrutta un servizio terzo si può stampare in 3D edifici e i complementi come ad esempio staccionate, peschietti, statue e tutti quei piccoli dettagli che iniziano a rendere il tavolo più bello, più bello, più bello. Molti dei tavoli che arrivano al Miano War Games o a Modena sono un misto di queste tecniche, una parte di autocostruzione, ad esempio per quanto riguarda i tavolati spesso in profondità, edifici stampati in 3D con magari alcuni parati in stock prese dal materiale già fatto queste sono le due metà del gioco, i modelli e il tavolo Per quanto riguarda il regolamento manuale, non possiamo che rimandare alla nostra pagina Facebook dove c'è a disposizione, come PDF scaricabile gratuitamente, il manuale originale, quello uscito nel 99 ma in nuova traduzione. Abbiamo ripreso in mano il testo originale, abbiamo integrato molte correzioni che sono state fatte successivamente e che erano da recuperare in 3, 4, 5 posti diversi e adesso è disponibile, disponibile gratuitamente. Basta stamparselo, andare in legatoria e farlo stampare Tra l'altro il gruppo Facebook mi sembra che sia molto, molto attivo quindi mi sembrano tutti molto disponibili vedo sempre molte domande di persone che appunto si stanno la prima volta che giocano, la prima volta che stanno entrando in questo mondo e tutti sono subito pronti a indirizzarli nel migliore dei modi quindi non c'è assolutamente nessuno che vi dirà niente di di ah perché non sei, non sei capace, assolutamente no No, 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 al massimo la prima risposta è guarda il posto di benvenuto, c'è un posto di benvenuto opposta l'abbiamo creato con tutti i riferimenti rapidi e ovviamente le persone che non conoscono nulla chiedono poi subito regolamenti, modelli esiste un posto, va benissimo chiedere assolutamente però c'è un posto di benvenuto in cui si trova tutto quello che è necessario C'è un'altra risorsa che non abbiamo citato che però secondo me è doveroso citare poi è il sito di Broheim e che è il repository più importante a livello internazionale sia di ufficiali che di fan made di modi però è tutto in inglese quindi se non sapete in inglese vi attaccate Quanto tempo impiega una persona a mettere un tavolo? Eh, molto soggettivo Eh, lo so, è proprio oggettivo Si parte da qualche ora prendendo le cose diciamo già fatte o ad assemblare appunto in taglio laser e usando magari il battle mat a... Un anno? Ah sì, a tempo illimitato c'è sempre tempo a spingere dipende quanto uno vuole crescere in verticalità e quanto vuole elaborare Eh, vedo sempre dei tavoli bellissimi cioè io ho fatto tante cose È molto personale alcuni dei tavoli più belli che vedi lì sono fatti magari in un mese di lavoro sei ore al giorno esatto e altri magari invece sono stati fatti in tre anni ma lavorandoci quando capitava in fine settimana quindi è un po' difficile da conteggiare potenzialmente poco ma quanto a uno piace può andare avanti quanto vuole Certo, certo Qui c'è Daniele che ci chiede Nella revisione del manuale avete sistemato solo la parte di background o avete lavorato anche sul bilanciamento del gioco? Anche se prima di prima di prima non è importante non è la parte più importante del gioco Allora, abbiamo lavorato sul fatto che la traduzione del 99 era stata fatta da dei non professionisti poi neanche noi siamo professionisti però nel tempo avendo a disposizione il test italiano e il test inglese sono sortate fuori delle difformità importanti termini inglesi tradotti a senso invece che con la logica dell'intento e non solo alcune regole poi sono state corrette nelle pubblicazioni successive ma non è mai stata stampata una versione 1.5 del manuale o 1.1 quindi queste correzioni sono state integrate a volte nel testo si è stato si è confrontati con tu o mas per questo a volte in appendice c'è il chiarimento la fac la cosa che mi viene in mente più l'abbinamento è alabarda e scudo o lancia e scudo posso usare lo scudo con la lancia lo scudo con la alabarda e sì, con la lancia puoi utilizzarlo con la alabarda no soltanto per il tiro lì non ne era scritto a nessuna parte però sul gruppo anche internazionale c'è molta attività la parte di Tuomas per queste cose le avevano integrate certe volte erano da rettificare degli errori di grammatica o anche solo degli strafalcioni fatti della produzione originale ad esempio anche solo dove era messa una virgola che faceva cambiare in parte il senso della frase e noi abbiamo lavorato sul bilanziamento del gioco certe bande sono meno potenti di altre si sta fondamentalmente non abbiamo toccato a tutti gli effetti il core del gioco non abbiamo toccato sistemato gli eroi dal punto di vista di scrittura ma non abbiamo toccato il gioco ma ci sta che ci siano bandi gioco il gioco è quello il gioco è quello originale se uno vuole giocare una variante ce ne sono mille noi abbiamo semplicemente toccato l'origine c'è Corheim ad esempio che conosco che è stato ridisegnato dal punto di vista del bilanciamento o lo stesso Mordain 2.0 del gruppo di Firenze che ha messo dentro un sacco di altre opzioni su armi diverse abilità mille cose però iniziamo a tenere basati sul momento di Mordain ci sono come dicevo prima mille varianti non riesco neanche a ricordarmi tutti i nomi e quindi davvero se uno vuole giocare una variante come appunto anche quella che è stata citata prima scritta in Italia o il tomo di Firenze ce n'è quante ce ne vuole se uno gira anche sul gruppo internazionale trova tutte le varianti che vuole ne avevamo cercato di fare quell'1.2 1.3 che non è mai stato fatto integrando i contributi originali dei games designer certo qui stanno arrivando tanti 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 commenti appunto che mi sono avvicinato al gioco dopo il Milano Wargames devo farmi devo dire che farmi una banda stampandomi i modelli e prendendoli qui e lì a mio gusto è stato veramente divertente oppure c'è ancora Chimera Wargames che ci dice grazie al gioco abbiamo formato un gruppo nella mia zona e giochiamo regolarmente costruiamo elementi scenici dipingiamo insieme quindi in realtà c'è della funzione della pagina di Facebook la pagina di Facebook nell'intenzione dovrebbe fare da aggregatore per mettere in contatto le persone che hanno bisogno di aiuto ma anche di qualcuno con cui giocare chi c'è nella mia zona io vorrei giocare ma sono sempre io con mio cugino la pagina Facebook può fare questo fa da aggregatore da motore di condivisione certo no no è importante infatti scrivetelo anzi adesso lo rimetto ancora sotto come banner anche se poi dopo lo metterò anche nei commenti e la live rimane sempre su YouTube su Facebook sul sito quindi si può trovare tranquillamente nel caso non li troviate immediatamente su Facebook ma sono sicura che non ci saranno problemi e poi insomma prima di liberarvi perché intanto io comincio già a ringraziarvi che siete stati super disponibili super gentili già da quando avevo girato il video su mi avete passato il materiale quindi super super bravi grazie volevo chiedervi le prossime i vostri prossimi appuntamenti cioè dove è che possiamo trovare i tavoli il gioco nel prossimo mese ad esempio o anche ad aprile ecco allora aiutami con le date perché io non mi ricordo neanche come mi chiamo allora devo andare a prenderle anch'io perché allora Mufra Games è il primo che è il due calendario è l'otto e il nove forse otto nove sì vedere fammi vedere no 6 e 7 perfetto 6 e 7 faccio fatica ai coda il mio compleanno allora 6 e 7 poi beh Modena che sarà 19 e 21 maggio sì 19 e 20 e 21 esatto e allora ci vediamo sto andando a recuperare tutti i vari i vari eventi nella nostra nel nostro chat calendario allora sapere questo programma di Modena non mi ricordo la data allora a maggio di sicuro ci vediamo sia a maggio Modena poi Mufra Games c'è stato il torneo una pagina adesso ci sarà il torneo a Forlì sì ma non mi ricordo la data è quello di Forlì e anche io aspetta quando c'è la nostra pagina di Facebook Mordi in Italia se qualcuno della pagina è collegato scriva nei commenti allora usate la noia di un pesce rosso morto sarete a Napoli Comicon e purtroppo purtroppo no è quello che possiamo già dare in diretta ma perché perché l'idea dietro alla pagina di Mordi in Italia rimane quella di fare di fare rete noi non possiamo spostarci a tutte le fiere noi cerchiamo di fare quelli che sono i due eventi cuore per Mordi che sono i Wargames a novembre a novegro anche quest'anno sarà a novembre e il Modena Play che è la fiera il gioco a tavolo si fa lì anche il gioco di miniature questo non vuol dire che non si possano avere delle demo di Mordi assolutamente è una cosa che è stata fatta con Bologna Nerd un mese fa due mesi fa non mi ricordo a marzo in cui i ragazzi del gruppo Mordi in Bologna Bologna e si sono offerti di organizzare loro le demo quindi abbiamo mandato tutto il materiale che potevamo mandargli informazioni dati sul come loro hanno allestito un paio di tavoli in accordo con l'organizzazione e sotto la bandiera di Mordi in Italia hanno creato loro le demo quindi questo è un invito a chiunque della community sul proporsi noi abbiamo sempre bisogno di una mano se avete i contatti con l'organizzazione potete essere voi a portare le demo di Mordi in Italia o un mini torneo o una qualunque attività esatto noi vi come admin vi supporteremo al 100% per le demo io sono uno dei contatti e siamo anche a FURIA e così via per i tornei ci sono gli altri gli altri admin come Max come sempre come FURIA come Mark e via dicendo e vi possiamo dare tutto il materiale sia già magari già pronto o anche in linea guida per organizzare il vostro evento di Mordi all'interno di una fiera che sia il Napoli Comic Con che sia il Romics che ci ha appena stato da qui non eravamo presenti anche se ne era un po' parlato o come potrebbe essere la fiera X la festa dell'unicorno ci siamo già stati per la verità o Brescia Comics e Games che non so neanche se esiste anche se io ho Brescia aiutiamo anche se le fumetti in castello e c'è stato il Garda con due settimane aiutiamo anche per i tornei appunto a gestire il discorso dei premi perché abbiamo delle categorie e aiutiamo tramite gli sponsor di cui uno sono io con appunto piccole aggiunte ai premi e così via certo insomma si può fare ci sono varie inizie se volete collaborare con noi siamo sempre aperti assolutamente vi lascio qui tutti i vari riferimenti spero che li stiate vedendo il gruppo Facebook anche il profilo Instagram giusto? abbiamo anche una pagina Instagram in cui facciamo condivisione soprattutto dei modelli è un canale informativo un po' più in secondo piano anche perché è un po' più difficile da gestire in tandem con la pagina la pagina morde in Italia con il Facebook assorbe tante risorse per Instagram se ci serve una mano servirebbe anche se qualcuno se qualcuno vuole fare da media manager per Instagram o se ci contatta insomma no Instagram è complicato una persona che aveva una sola pagina Instagram non riesce a gestire perché le risorse vanno su quindi serve una persona che si dedica direttamente a quello certo per cui allora io qui vedo che ci sono tanti commenti appunto che vi ringraziano grazie vi ringrazio anche io appunto vi unisco ai ringraziamenti per questa live per avermi spiegato per averci spiegato bene il gioco in tutte le sue accettature sia dal punto di vista modellistico della storia del sistema di tutto quanto e grazie mille per la disponibilità perché in realtà io ormai le persone che seguono sono abituate che io dico mezz'ora ma in realtà non è vero per niente io prendo e forzo la gente a venire qua a chiacchierare per un oretto dal punto del tempo relativo esatto esatto ma assolutamente sono chiacchiere che fanno solo piacere e la versione online di quello che si fa in Fiera se la gravità fosse più alta sarebbe stata mezz'ora quindi esatto guardate Paolo dice che siete il top dei top top tutto e quindi io vi invito ad andare a guardare la pagina a guardare iscrivervi insomma a partecipare non solo a guardare basta il gruppo facebook il profilo instagram e di seguire i vari eventi che poi ci saranno a maggio oppure di creare come vi è stato suggerito appunto degli eventi tutti i vostri con blackjack e squillo no non è vero con blackjack e squillo di lusso cito ma senza blackjack e senza squillo solo con modellini quindi quindi grazie grazie mille no grazie a te assolutamente grazie a te e niente buona buona serata allora a tutti grazie buone vacanze per chi andrà in vacanza o farà ponti ponticelli ponticelli vari anche per chi rimarrà a casa a lavorare insomma e ci vediamo noi ci vediamo al Mufra e poi ancora a Modena quindi sarà un maggio dove mi vedrete e ci vedremo e sono contenta io di sicuro sarò a Modena anche noi assolutamente io ci sarò di sicuro ok ok siamo appuntamento anche per una partita a Modena allora sì sì infatti grazie grazie mille a tutti grazie a te grazie per la stessa ciao ciao buona serata grazie a tutti